Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 fino al 18 giugno per lavori chiuso sulla panoramica il tratto tra la variante di Valico e Aglio. Segnalato personale su strada per lavori tra Baldarno e Arezzo in direzione Roma. In A11 l'area di servizio di Serravalle Sud in direzione Firenze alla stazione di rifornimento chiusa per lavori. Sulla FIPILI segnalato un veicolo in avaria a centro intermodale ovest in direzione Livorno. Sulla statale un'Aurelia chiusa una corsia per un incidente che ha coinvolto più veicoli a due chilometri dall'incrocio dell'ingresso del Maroccone in direzione Roma e chiusi gli svincoli di Rosignano Marittimo in direzione Roma e di Rio Torto in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!